ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora vi sto parlando dal portatile comunque non so se mi sentite perché non è più nella posizione del pc che avevo prima perché mi è arrivato il nuovo computer fisso che io ho prontamente già collegato e funziona qual è l'unico problema per cui non lo posso usare semplice è il fatto che non ho internet perché qua adesso vi faccio vedere se io vado qua questa è la mia wifi lasciate perdere il nome che lascio mio padre perché è un po matto se vogliamo se io vado qua modifica opzioni scheda qua vedete che mi dà un dei insomma delle finestre con wifi e tenete con le sedie di allora questa in teoria cioè me la da perché ciò con già collegato tante volte controlli che insomma richiedeva il controller poi mi dà il cavo ethernet che giustamente deve dare e poi mi dà wifi qual è il problema è che questo tasto che in teoria ci dovrebbe essere sul mio fisso non c'è ed è quello il problema e quindi non posso connettermi alla wifi se non ho un cavo ethernet quindi devo per forza avere un cavo ethernet e collegarlo qual è l'altro problema è che io il router della wifi ce l'ho nella stanza dalla parte opposta del mio appartamento rispetto a camera mia quindi come cavolo faccio a collegarla semplicemente come faccio cioè me lo spiegate perché io veramente sono in una condizione che non lo so perché la madre è dovuta andare in un posto perché era urgente e quindi tornerà stasera farvi mio padre non ci capisce un cazzo e io ci capisco ma non posso fare molto perché comunque ancora non sono esperto di informatica proprio al livello che dici oh mio dio ti do il lavoro capito quindi non lo so per il momento posso caricare questo video perché giustamente dal portatile mi prende la wifi infatti se prova ad aprire il giovedì nasce per fare un esempio banalissimo in teoria quindi dovrebbe quindi internet non è tutto questo grandissimo cioè nel portatile nel fisso sì ma oltre a quello io spero di risolvere al più presto questo problema con la commissione io ho fatto questo video di annuncio giusto per dirvi che da domani riprenderò a fare video e appena avrò il tempo li caricherò dal fisso e giustamente prima devo finire di caricare tutti i video che ho qui che sono fatti sono relativamente tanti sono 3 6 9 12 15 15 18 20 23 video sono 23 cristo di video e questo è quello che sto registrando in questo momento quindi saranno 22 video per questo che devo caricare prima di poter caricare il video definitivamente dal mio fisso ed oggi è il 26 ottobre quindi pensate un po che probabilmente dovrete esorbire sempre i video dal portatile di merda fino al gennaio essenzialmente perché poi alla fine arriviamo lì comunque io spero il video vi sia piaciuto era solo un annuncio per dirvi che purtroppo non ho internet e sono un po nella cacca e quindi farò un po da qua per il momento se vi è piaciuto lasciate un mi piace commento come al solito condividete e iscrivetevi io vi saluto e ciao a tutti